La Vernet Italia, con sede in asti, è una società facente parte del gruppo multinazionale americano Vernet. L'attività principale del gruppo è la progettazione e realizzazione di componenti destinati al fluido, principalmente per il mercato automobilistico. L'azienda è fortemente convinta che la risorsa principale siano le persone e per questo motivo che sia la formazione che il coinvolgimento del personale siano aspetti fondamentali alla base della nostra organizzazione. La filosofia Kaizen ha modificato il paradigma del controllo qualità da controllore a fruitore delle informazioni, generate durante il processo produttivo. Questo ha vantaggio del controllo di processo, riducendo il numero di reclami e migliorando la percezione di qualità da parte dei nostri clienti. Abbiamo cominciato nel lontano 1997 a introdurre i primi concetti Lina all'interno dell'azienda. 5S, lotta alle attività non valore aggiunto e SMED sono alcuni esempi dei progetti di miglioramento implementati. Abbiamo ottenuto risultati incoraggianti che ci hanno spinto a proseguire in questa direzione. Nel corso degli anni le attività sono proseguite fino a quando nel 2013 si è iniziato a trasformare il reparto produttivo in isoli di lavoro, da noi denominate celle produttive. Abbiamo proceduto in quest'ottica e ad oggi l'80% dell'azienda è organizzata in celle di lavoro. In ottica del miglioramento continuo abbiamo introdotto diversi strumenti che ci aiutano a migliorare e a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Da citare ad esempio la raccolta delle idee degli operatori, il controllo e stabilità del processo, i game by walk in produzione e gli eventi Kaizen, durante i quali coinvolgiamo persone provenienti da diversi dipartimenti, sia produzione sia ufficio, aventi il focus di lavorare in squadra e perseguire insieme un determinato obiettivo. In parallelo alla manutenzione preventiva e predittiva abbiamo introdotto i TPM a cura dell'operatore. Tale attività vengono trasformate in digitale con l'aiuto di QR code e tablet.